Ciao a tutti, mi chiamo Giulio Pistolesi, ho 17 anni e abito a Milano, dove frequento il liceo classico Giuseppe Parini. Penso che una buona presentazione di me la dia la mia stanza, qua dove ho cercato più o meno tutto quello che mi piace. E niente, penso di dover aggiungere soltanto mi piace molto scrivere, scrivere di tutto, dagli articoli giornali alle recensioni di film e ai racconti, come in questo caso. Infine, sono molto contento di essere arrivato in finale. E niente, è quanto.